Appuntamento online con il basket e la palla a volo del capoluogo. Domani le due squadre molisane saranno impegnate in trasferta in viaggio verso il Lazio. L'Energy Time Spec Devils Campobasso, ospite del Marino con primo servizio alle ore 18. Viaggio verso la Lombardia per la molisana Magnolia Basket Campobasso, ospite del Crema, palla 2 alle 20.30. I sostenitori della palla a spicchi potranno seguire il match sulla piattaforma ufficiale della federazione per gli appassionati del volley diretta sulla pagina Facebook del club Rosso Blu. L'Energy Time Spec Devils Campobasso è chiamata alla trasferta in casa del Marino. Laziali accuota tre punti, frutto di un successo al Tebrec contro l'Anguillaria e di una sconfitta dopo 5-7 con il Casal Bertone. Dal Cantoloro i molisani oggi occupano la seconda posizione a meno due solo dal Sarroc. Mister Maniscalco ritrova tra le rotazioni Corrieri, l'opposto la scorsa settimana non è partito. Nel sessetto titolare ma è entrato a gara in corso, in settimana il recupero completo. Spostiamoci in Lombardia, la molisana Magnolia Basket Campobasso, ospite del Crema, che proprio nel turno precedente si è sbloccata in gradatoria vincendo in casa del San Martino di Lupari. Le Rosso Blu invece nel turno precedente hanno perso contro la capolista Schio e hanno interrotto una serie positiva che durava da quattro turni. Rispetto alla sfida contro le Orange, seppur ancora senza Blanca Chignonez, l'Equadoriana sarà a tutti gli effetti a disposizione sin dal match interno contro San Giovanni Valdarno nel 4 dicembre. Le Rosso Blu ritroveranno l'ala statunitense Robin Parks.